Un anno importante per l'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona che festeggia i suoi 40 anni. Questa mattina è stato presentato un programma ricco e variegato che ha come obiettivo quello di promuovere sempre la figura di Francesco Paolo Tosti, di avvicinare i giovani a questa figura e a questo tipo di musica. Leo Castiglione ha definito il Tostiano un patrimonio non solo di Ortona. Certamente, anzi un patrimonio regionale, nazionale e internazionale e su questo dobbiamo continuare a lavorare e investire perché nel nome di Tosti possiamo promuovere la nostra città, tutto il patrimonio storico e culturale della nostra città. L'amministrazione è sempre stata vicina all'Istituto Tostiano, lo sarà anche con questo nuovo CDA che ha dato continuità e impulso all'attività svolta purtroppo un po' rallentata per gli anni di pandemia ma che con questo programma vuole ripartire nel nome di Tosti, nel nome di Francesco San Vitale, del ragioner Caraceni, proprio in occasione del quarantesimo. E Tosti poi entrerà in un discorso di polo museale sul quale state lavorando? Certamente, l'Istituto Tostiano sarà proprio al centro di quel polo museale che vogliamo realizzare e che a breve vedrà innanzitutto la partenza dei lavori, l'inizio dei lavori a Palazzo Corvo, a Palazzo Farnese che sarà la sede del polo museale, al Convento Sant'Anna che invece diventerà la sede del polo bibliotecario della città. Un ricco programma che inizierà già domenica 12 febbraio, nella conferenza stampa è stato presentato dal vicepresidente del CDA Roberto Rupo e dal direttore Maurizio Torelli. In questo programma si vincono anche queste collaborazioni a livello internazionale? Certo, ormai sono già diversi anni ma oserei dire decenni in cui il nostro istituto collabora con pari istituzioni o anche istituzioni universitarie e accademie internazionali in tutto il mondo. Abbiamo ripreso appunto queste collaborazioni e quest'anno abbiamo due livelli. Uno quello nazionale nel quale arriveranno qui degli studenti dal conservatorio di Lecce, dal conservatorio di Campobasso e dal conservatorio di Venezia. Inoltre arriveranno studenti da prestigiosissime istituzioni internazionali quali l'Accademia Chopin di Varsavia, il conservatorio di Siviglia e il conservatorio di Bruxelles. Si parte domenica 12 con cosa? Domenica 12 invece c'è un concerto di un artista nostro locale, proprio di Ortona, che ha avuto già grandissimi successi all'estero vincendo dei concorsi internazionali molto importanti ed esibendosi iniziando già una carriera e quindi è perlomeno doveroso che in patria deve fare il profeta. Vanno bene.